Probabilmente ha salvato diversamente, questo per sottolineare come in politica si vuol dire tutto e io certo non ho, certo non voglio avere l'abilità, ma in questo caso mi sembra abbastanza evidente che forse più in questa maniera non può riuscire a 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 riuscire Grazie 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 Se ci sono altri interventi Se non ci sono altri interventi, vi vorrei dare a sottolineare Vadori Grazie 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 No, siamo stati uno dei miei che hanno usato questa mozione di finamento E devo dire che non importa andare tanto lontano a cercare pervenire per fare una casa autostruita, basta prendere quel diritto delle allineazioni che ha fatto e si può ordinare per esempio di alcuni pezzi di terreno e altre volte e trovarmi un uso su cui poter andare in zona luce. Basta prendere il diritto e scenderlo, ce ne sono tanti e dove c'è scritto si può allenare, si può allenare, quindi. Grazie. 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 dire le cose che riguardano il congresso, diciamo, dei soldi che arrivano per questo intervento e facciamo in modo che se ne arriva degli altri, se il mando va avanti, ci possa essere anche il servino, quello che fa, 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 sta a letto, quindi, come si chiama, quello che si chiama, le lineazioni, le parti del popolo, che è promettante, può arrivare, uno si può stare sempre da, ha una famiglia che è un'altra, ha un'altra, ha un'altra, ha un'altra, grazie. 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 faceva queste ombre nel modo e con le aziende che le teneva più o meno e quindi si deve la sua patate che lo vedeva a scuola nel frattempo è intervenuto una politica che ha ricevuto una direttiva scelta secondo cui l'urbanizzazione realizzata dal primo anno al copolo di un'organizzazione non possono più essere agitate da un soggetto che realizza il governo in totale più ma devono seguire la normativa di lavoro pubblico questo per consentire per i grandi e grandi obiettivi di un'organizzazione a razzo di questa normativa europea per consentire a libertà di un'incorrenza di stare in mezzo in tutto il territorio chi mette la possibilità di fare un'organizzazione avrà un po' giusto più prossimo nessuno però la relazione che i consiglieri hanno possibilità unicamente a modificare questa parte di relatività alla realizzazione degli obiettivi in questo modo l'associentamento dell'organizzazione dei obiettivi alla normativa dei lavori pubblici anche questa variante tutto il resto il contenuto è una comprensione che è un capito di una variante di un'organizzazione di un'organizzazione quindi non sembrano prima in cui di un'aktività di un'organizzazione Grazie. Grazie. Grazie.